La salute mentale è un diritto di tutti. La salute mentale è un diritto di tutti. Non dimentichiamo mai che la salute mentale è un diritto di tutti. Vi ricordo che la salute mentale è un diritto di tutti. 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 tutti. La salute mentale è un diritto di tutti. In occasione della giornata mondiale della salute mentale, che anche quest'anno ricorre il 10 ottobre, abbiamo voluto raccogliere l'invito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità verso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alla necessità che le cure in questo ambito siano di qualità e che siano per tutti. Quindi ringrazio di vero cuore gli artisti che attraverso questo video hanno voluto contribuire con la loro testimonianza al raggiungimento di questo importantissimo obiettivo. Io vi invito a seguire gli eventi del 10 ottobre organizzati dal Comune di Milano e anche le nostre iniziative, iniziative che potete trovare nella nostra pagina Facebook e nel nostro sito www.amicidellamente.org. Grazie a tutti.